Il dato elettorale, un commento adesso non più a caldo ma con qualche ora di riposo e anche di poter capire meglio cosa è accaduto. Cosa è successo? La città ha fatto le sue scelte, c'è chi dovrà governare, spero sia in grado di farlo. Per quanto riguarda la sua posizione politica all'interno del Consiglio Comunale, lo sapevamo già da prima che lei avrebbe avuto la maggioranza in Consiglio Comunale. Fabio Termine, seppur vincitore, dovrà governare con numeri risicati in opposizione, sarà molto difficile. Secondo lei come intende portare avanti la linea vostra in Consiglio Comunale? Noi portiamo avanti gli interessi della città in prima linea per cui ci confronteremo con chi amministra, se presenteranno delle proposte valide e serie valuteremo se sostenerle, se non le condivideremo evidentemente saremo opposizione. Come candidato sindaco perdente c'è anche uno scranno per lei in Consiglio Comunale, la vedremo lì, accetterà l'incarico? Certo, è questo che la legge mi ha attribuito e sicuramente sarò a guidare il mio gruppo che tra l'altro, devo dire, come coalizione è sicuramente ampia alla maggioranza. Voglio ricordare che la lista Messina sindaco è la lista più votata in città e quindi sarà presente con cinque consiglieri. All'inizio di questa campagna elettorale, nel momento in cui lei è sceso in campo, sembrava appunto che lei fosse il favorito, poi ad un certo punto qualcosa è cambiato. Si è anche interrogato su questo, cos'è che non ha funzionato, cos'è che lei pensa di aver sbagliato o che non è arrivato ai cittadini? Ma credo che alla fine si sia un po' deteriorata la campagna elettorale, io ho cercato all'inizio di parlare di grandi temi, vedendo la città in difficoltà, io mi sono messo a disposizione proprio per cercare di dare una mano, avendo già fatto questo ruolo in passato. Ho parlato di temi come il turismo, come il teatro, come l'urbanistica, invece la campagna elettorale è scesa molto in basso e credo che alla fine abbia prevalso una campagna elettorale fondata su temi personali, su discussioni che poco avessero a vedere con la città. E quindi dovendo rincorrere quel tipo di temi si è trascurato quello della progettualità per la città. Qualcuno ha detto, facendo un'analisi di questa elezione, che c'è stato un cambio, insomma la città ha voluto svoltare e cambiare la propria classe dirigente, rappresentata insomma dalle persone che sono nella sua coalizione, che in qualche maniera rappresentavano comunque il passato. Lei è d'accordo? Ma assolutamente no, considerato che nella compagine di sostegno al sindaco Termi, a cui vanno gli auguri sperando che sia libero di poter governare la città, c'è dietro sicuramente l'amministrazione uscente e ci sono gli stessi assessori in carica che sono di sostegno alla sua giunta. Per cui da questo punto di vista, come mi pare, ci è stato un grande cambio. Viene un po' da dire, quasi quasi, ma perché non si è candidata alla Valenti, visto che alla fine la città, nonostante si lamentasse fortemente dell'andamento, poi alla fine ha premiato una continuità con lei. Lei ha già annunciato un ricorso riguardo il primo turno. Confida che questo ricorso, insomma, possa dare ragione a lei alla fine? Io presento il ricorso per ripristinare la legalità in città, considerato che, per esempio, alla sezione 28, ne abbiamo parlato più volte, non mi voglio ripetere, ma ci sono 30 schede di fatto non scutinate, cioè non si sono svolte le operazioni di voto, 30 cittadini non sanno se hanno votato oppure no. Ecco, per ripristinare questo, ma ci sono tanti problemi in diverse sezioni, il numero dei voti che non mi ha consentito di andare, di vincere al primo turno, è veramente esiguo e quindi chiederò, rivolgendomi al Tribunale Amministrativo Regionale, che è l'organo competente, di accertare la verità. Dopodiché, una volta accertata, valuteremo cosa fare. Per concludere, quale sentimento prevale oggi, dopo, insomma, all'esito, dopo il risultato elettorale? Deluso, amareggiato? No, sicuramente speravamo, pensavamo tutti quanti di vincere per portare avanti il nostro progetto, così non è stato, la politica è fatta così, bisogna prendere atto delle circostanze, ripeto, al netto di quello che sarà del ricorso, che ovviamente avrà una sua conclusione in un modo o nell'altro, per il resto svolgeremo appieno il ruolo che la città ci ha assegnato.